va beh facciamo migliore e peggiore di sta partita ma questa è questa è conference league no 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 la lasciamo a firenze chiedo scusa c'è la morte in piedi sui tabelloni è appena scritto che arriva secondo te oggi c'è dato sui tabelloni c'è dai ha giocato contro chi rosicchi avete visto 6 a 0 ho giocato contro gli scappati di calo e ma flavio funziona così quando sono loro che vincono se a 0 squadra fortissima le altre va bene se giocato contro di scappati di calo contro l'empo di roma ecco allora allora c'è l'assist di chidi a civili il pupillo di rizzo però sonzo facci migliore e peggiore dell'atalanta ti dico che a me si sta piacendo casino e mi mordo le mani di non averlo preso a fantacalcio ruggeri mi spiace proprio un casino e ruggeri tra l'altro abita nel paese in parte al mio e si vede perfetto è un ragazzo molto umile lo vedi proprio anche in giro con la bicicletta ogni tanto tranquillissima però si ha avuto una bella crescita minchia anche perché lasciare in panchina un giocatore comunque come backer che è stato pagato 12 milioni di euro e arriva dalle vercuse vuol dire che sta facendo proprio bene però ha detto questo migliore vabbè sarebbe scontato dire quindi dico può essere però intanto sono sette anni che siete dietro quindi è un nuovo derby è nato su cv derby non ti aspetti proprio dico che è migliore ad ebola lungo ma perché è ormai secondo me imprescindibile davanti vero e poi ma perché cosa sta diventando un fantasma rega ma se si come scusate i conterotto siccome ammende la fiorentina non me ne frega il cazzo entra qualcuno da interessante o possono dormire e dipende lei che intende ben interessante è qualcuno da interessante secondo me allora sì io ho un sogno un sogno di questi 40 minuti c'è un sogno anzi 38 facciamo i precisi io ti dico da migliore per me in questa partita è stato ederson che fa un lavoro sporco non lo vede mai nessuno ha bettolo imbarazzante zappa costa mi sta un po deludendo in generale immagino che nessun altro l'abbia vista quindi per ciappa costa ha bisogno di rifiatare perché lo sta spremendo la grande gasperini idea bruggerine secondo me perché stanno giocando sempre loro e bisogna dare un po di condizione a te perché è importante se se torna alle gerarchie no 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 non c'è non c'è non c'è non c'è che vogliamo fare intanto che arriva flavio vogliamo vederti qualche nuovo fenomeno della roma che ci siamo persi tipo nelle reaction era la reaction non è uscita ha peccato e alla fine di essere i miei instagram lo valori sapevo peccato non è uscito io mi hanno detto che c'è praticamente andy nine che sta facendo tutto però non mica come si chiama il canale di andy nine andy nine sì credo che andy nine non è che abbia questo l'incuente crisi avrà chiamato eccolo qua ecco sta facendo ufficiale perché c'è un attimo allora c'è il goletico c'è got insider curva atletica al bar one dei red lo che non so chi fa un fan quello lì non è il vero insider ho visto che l'hanno scritto oggi è tipo ha detto che un suo amico ma lui non va non si fa vedere sta cucinando per l'avamo notato che lui è molto molto forte e coi ovviamente tra i pali ma vabbè se ne ha il gol quello più facile dei gol 1 a 0 1 a 0 per oregon che in questo momento si aggiudicherebbero e poi gli facciamo a ride questa che ha commentando una partita che già si è giocata di cui tutti sanno per giocare il risultato di questo è ma lui non mi domani prego prego ci vediamo a rega ma qui ma ragazzo da curva da tele di garbare col passamontagna simoncino nera seguita la cosa di questo no no zero proprio ma non sa neanche di cosa parliamo proprio di vabbè di cosa si parla certo che lo so però non l'ho seguita so solo che la cucina non ha vinto così notizia ma perché ridi quando dice che la cucina ha vinto perché so che mezza che mezza live qui presente fa parte della cucina fra staff e altro sì sì abbiamo dato un ruolo a tutti guarda secondo me la fuci secondo me la con lì che è più interessante da serie a per me non ci voglia tanto la cucina la foto in generale la popola e la gott popola gott lì che la serie a una postura del simoncino vediamo col campionato non mi ricordo qualcuno ma attenzione chi è personaggio famoso storico do cv che non viene più giusto è un cammello diciamo devo di aver capito per favore è un po nuovo cammello dice male se te cominciano a cascare capelli sei pronto sonzo è ma gioca siamo quasi è sonzo io lo osservo ogni domenica gioca in seconda categoria ed è sul nostro taccuino quindi prima o poi non essere capito e non essere nostro è sul mio chiaramente occhio anche se il forte del sonzo sonzo in che ruolo ma questo lo devono dire gli ha la meta domanda di merda t'ho fatto in che ruolo sono i trequartista e mamma quello che ci serve proprio qualità sono un trequartista 11 anche esterno a manfredi vuoi spendere sui soldi ma sei mancino adesso sono a meno 2000 per adesso le grandi squadre fanno così e devi andare giù come l'inter coi debiti fisicamente te vedo un massimo lopez fisicamente te vedo un maxime lopez te vedo fisicamente ma no maxime lopez mi arriva la pancia ma fisicamente gragilino te vedo a quello sì no io sono tecnico non sono uno che va a far sportellate alla roma calabari deve fare vedere la camera se vuole entrare se non posso far entrare manfredi ma domani tu spoiler il nome mi sa di no perché prima ho bisogno delle date io manfredi però è quasi fatta solo che deve vedere le date ma è un vip sì firmato e lui sta aspettando le date per capire se può però 90 per cento è dentro ma livello allora livello lui non che assomiglia non è più tanto giovane ma ha giocato a livelli quasi alti quindi non ve lo aspettate se perché perché è un valo vi do un indizio voi siete tu rispetto a me siete più tutta gente del web è un po più dalle mie parti cioè televisivo se è un paracarro sarà che ha preso moschino moreno bettarini no non ve lo immaginate per socialità non ve lo immaginate non vuole immaginare comunque io ci avrei un giocatore alfieri ha fatto un talent mantra ha fatto uno dei programmi di quelli tanto visti su su mediaset giuffrida no 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 io avrei un giocatore no io avrei un giocatore no pronto che aspetta una tua chiamata un certo l'ho visto è però stiamo aspettando le date tutto ma poi c'era la chiamata di ma deve passato al draft numero e draft non lo facciamo come occhio 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 da una persona ormai è diventata un'icona nel canale sto parlando di roma tra bari che ha l'uomo delle playlist l'uomo delle blacklist facciamo entrare roma club bari ci sentite conti per dire una pagina la propria c'è di avere una maniera che il bambino fatto o c'è qualcuno della blacklist in questa live adesso no oppurevo il dino in ma non l'ho visto proprio ma fino a roma caballi ci spieghi un attimo lei come lei nasce da un account twitter fondamentalmente come che fa no io nasco da un account instagram niente una pagina così per pure divertimento oppure a partire e lei è barese e ti fa la roma ovvio come mai scusi come mai questa passione da piccolo forse la mano davanti al microfono roma calabari ho detto vissuto con totti quindi per forza tra l'altro sono cresciuti con rocchi io con totti comunque voleva dissare qualcuno dire qualcosa qualcuno che tipo di di liste black o lo senti flavio o lo solo perché pugliese bene ma dove è radio flavio il tipo di foggia ma no queste perché oggi vitale si è confermato nella blacklist giusto ovvio da lui il primo come nel video c'è andy veramente il primo andy c'è primo andy dai vitale il primo andy viene subito tu poi beh ma le motivi un po stai cose cioè qual è il criterio ci sono le abbastanza intelligente da capire che come lo vede a vitale a andy c'è e motivazione non mi viene in mente quello di un intervento rendi tutti i pronostici che fa io faccio tutto il contrario e guadagno già dalla parte un giorno dopo presupposto vitale dopo l'uscita con il siberiano mi è scaduto proprio sinceramente ma come dire si veriano è fan del soliano lei a roma club bari un po lo sostiene siberiano e osso secondo me sono i migliori abbiamo a roma in italia attenzione simoncini ho detto per sapere vabbè io dico ma di simoncini o cosa pensa o blasi ciorizzo me lo vedo molto pacazzo sinceramente simoncini però sembra un bravo ragazzo sinceramente la vada di gioco a signorista sportivo vado ancora una faccia da me devo ancora inquadrarlo va beh e invece che si chiama brasi come lo vede bravo si c'è uno che può può andare nella louis che risponde l'importante e ciccione e rizzo è imparazzante rizzo blacklist a rizzo si accetta si accetta è arrivato il momento ciao brasi ciò vado ciao simoncini spammate i link dei canali non sono andato il mio vado a dormire pure però te lo vorrei far salutare saluto al brasi e simoncini non ti dirà buonanotte 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 ragazzi buonanotte buonasera a roma club viola club bari roma club bari di salute sono di manfredone a sto sul mare più tutto più bello tutto più bello tutto più bello bella serata abbiamo vinto il conto degli scappati di casa a dirlo ha vinto la roma buono per il regno che ha vinto l'atalanta buono per il regno in san contento pareggiata l'atalanta come ha pareggiato l'atalanta così impossibile ragazzi così flavio va bene così abbiamo giocato contro una scuola ho notato ho notato le tre pappine anzi come direbbe la donna che ti fa l'azio viene in nome adesso i tre fischi che hai preso a Firenze non li hai ancora superati ma non avete ancora digerito gli ultimi sette anni voi? quando vincete contro di noi sembra che vincete la Champions League ci sarà un motivo no? i napoletani hanno detto che quando vinciamo contro di loro è come vinciamo nella Champions League faremo contro la Juventus e diranno la stessa cosa siete ormai monotone sembra un po' più difficile un attimo scusate di ogni squadra ti vogliamo anzi complimenti a Flavio Agnissetti complimenti alla Fiona saluto a tutti i giorni per le quantità e vi chiedo scusa del ritardo sono stato in Lega Calcio pochi minuti fa azz devo firmare per firmare una richiesta ufficiale da parte dell'AS Roma e chiedere di giocare sempre contro l'Empoli se si potesse di giocare sempre contro l'Empoli per favore fantastica è giusto ritirare la fuori stasera dopo quello che è successo giusto uno quando piglia per il culo quando piglia per il culo è giusto che viene anche pigliato per il culo assolto ci ho già pensato la vita no 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 ma vai a cagare ti facciamo vedere noi lunedì come si vince con l'Empoli va bene lunedì è un bel incrocio signore eh occhio digli a italiano di andare a Empoli che comunque lì vicino di prendere appunti quindi quindi sonzo lei sta dichiarando che lunedì tre punti sono sicuri giusto? a posto a posto bene bene non si sa mai ce l'abbiamo piglia italiano di andare a prendere appunti lunedì va bene allora 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 vabbè inutile neanche parlarne giusto Flavio di questa partita sì ragazzi insomma io penso che i muchachos erano più organizzati eh beh ma scusi ma almeno Beltran col fatto che si è sbloccato no Beltran ha fatto due onestamente eh allora queste partite ragazzi contano per le statistiche e per l'umore quindi va bene l'umore di Beltran ha fatto tra l'altro due bei gol grande gol anche di Maxim però sostanzialmente ragazzi sono partite che valgono per le statistiche per l'umore e per il ranking che sono punti importanti insomma onora a Flavio onora a Fiorentina e anche a noi no sì ma ma Roma club Bari esattamente dove si trova cioè ci vuol dire anche il quartiere tanto nicchia 6 a 0 comunque è stata una partita veramente San Girolam ah San Girolam San Girolam questi hanno fatto un tiro in porta praticamente 5 tiri ma hanno mai dato la sensazione Flavio di essere pericolosi proprio sì guarda l'unica volta hanno fatto l'unica volta che sono stati pericolosi è quando hanno dato a parte che hanno rotto Cajode e stavano per rompere Beltran Cajode tra l'altro Cajode è grave è brutta distorsione sicuramente non ci sarà contro la Lazio e contro la Lazio stanno facendo alcuni provini so che Mario Il Falco può essere chiamato per giocare il titolare contro la Lazio non abbiamo più testi non abbiamo più testi Biraghi infortunato Dodò infortunato Cajode infortunato e Parisi è l'unico ti do io la soluzione ti do io la soluzione Parisi a destra e Ranieri terzino sinistro no in realtà questa è una soluzione oppure che provano a rimettere dentro Biraghi anche se non sta benissimo oggi partita incredibile mi hanno detto di Cajode grande gol di Cajode non so se l'hai visto Pancio Icone ha fatto un gol pazzesco ma proprio dicono un gol ce lo racconti un gol visto che dobbiamo sponsorizzare la Goat un gol alla alla fratino azzo bello 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 anche il gol di Max ah ma anche il secondo di Beltran è molto bello eh ragazzi sto contendo per Beltran ma Beltran quanti anni ha ragazzi? 2001 ma è il nuovo Dusan? allora lui era il centravanti del River Plate nazionale argentino che nel senso è sempre chiamato dall'argentina quindi di certo non è con tutto il rispetto un muriel non è un muriel o un look ma qualsiasi ecco vediamo deve crescere deve crescere ricordare che l'argentina ha chiamato pure Luca Romero in azione a vero e lui come ti leccheresti i batti caro Flavio eh mi sa di sì oggi sì però io cioè nel senso questo è forte abbiamo pagato in 25 milioni di euro non è proprio lui è stile Lautaro come attaccante bravo bravo è un attaccante stile Lautaro Lautaro Aguero deve mangiare di polenta sonzo io so che tu giochi in seconda categoria ma dire stile Lautaro non vuol dire che è come Lautaro è come se tu dici sonzo è stile è cross non vuol dire che tu sei come Tony Cross vuol dire che le tue caratteristiche sono vicine a quelle di cross hai fatto la punta elementare? no sono arrivato fino alla terza si lavora presto può avergo eh vabbè questa è la classifica di questo vi faccio vedere i vari gironi questa è l'Atalanta che attualmente è prima a più 4 su Sturmgrad Sporting e aspettate un attimo che vado anche sulla conference che vi faccio vedere la Fiorentina un attimo siamo primi siamo primi dopo ma c'è i gironi la conference si sono ricordati di farli e con chi sei in girone tu? con il Kukarici che oggi abbiamo giocato poi contro il Speresvaros e il Cenk ma non ti ricordavi i miei nomi? no no allora il Cenk è una squadra vera il Cenk squadra vera per Speresvaros squadra vera il Kukarici squadra di di Scappatricasa sostanzialmente ma scusa ma questo girone è più difficile di quello della Roma ma dai onestamente non mi ricordo quello della Roma però ragazzi il Cenk è una squadra vera è ora al di là degli sfottori è una squadra organizzata il Ferenzvaros è una squadra che si conosce il Cenk no si conosce il Cenk gli altri due sono proprio sconosciute non l'avevo mai sentito il Ferenzvaros è la squadra che è prima in classifica nel campionato dove allena Stankovic che ora non ricordo nemmeno quale sia dai ragazzi ma di che stiamo fai 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 ma non esistono neanche ste nazioni qua bravo 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 gusto bravo gusto ingherese ingherese ho fatto una domanda ho visto che avete c'è anche il siberiano il siberiano che io ieri ho difeso siberiano tu non so se ti è arrivata la clip ti ho difeso ieri si si mi è arrivata la clip mi è arrivata a proposito di cosa fratio è perché ieri l'italia ha nominato ha nominato il siberiano e poi ha detto no vabbè ma non ne voglio parlare perché l'hai nominato tu fratello Carlo però vabbè no vabbè no vabbè ma non ne voglio parlare ma non ne voglio parlare Grazie a tutti.